C'è una novità, è una polca bellissima, nuova, 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 scritta da Stefano in collaborazione con Fabrizio e anche gli altri ragazzi e la dedica è speciale, va a finire fino a Pietracuta, saltiamo il monte e arriviamo a Pietracuta perché questa cara Aurora è tutta per te questo ragazzo ha perso la testa, non capisce più niente, già capiva poco prima, figurati adesso se non siamo nei guai per colpa tua, però te la dedichiamo con tutto il cuore, ballala se vuoi, si intitola Aurora ed è tua Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.